Le peggiori inondazioni degli ultimi 120 anni mettono in ginocchio la Russia orientale. Nella regione del fiume Amur sono state sommerse 121 città e 530 chilometri di strade. Decine di migliaia le persone evacuate e le squadre di soccorso calcolano si possa arrivare a 100.000 sfollati. Ai residenti viene raccomandato di far bollire l'acqua prima di consumarla, avviata anche una campagna di vaccinazione per prevenire casi di epatite. Il livello del fiume potrebbe salire ancora di oltre 7 metri, una misura mai raggiunta in precedenza. Enorme anche il disastro economico con 400.000 ettari di terreni agricoli sommersi dalle acque. 30.000 ai soccorritori al lavoro e il Ministero dell'Emergenza ha allestito oltre 160 ricoveri temporanei.